Hola a tutti ragazzi, sono il vostro Luki e oggi andiamo di corsa veloce, forte e furia perchè questo video Si autodistruggerà, non so perchè sto arriccando velocemente perchè alla fine quelli che dovranno vedere il video velocemente siete voi Perchè ragazzi? Perchè questo video si autodistruggerà questa... Vabbè ragazzi, a parte gli scherzi che davvero mi sono un ricoglionito Questo video perchè si chiama autodistruzione e roba simile? Perchè ragazzi, volevo soltanto dirvi una cosa e poi credo di eliminarlo dal video Poi se lo apprezzate, magari lasciate like, commentate eccetera, lo lascio pure Semplicemente volevo avvertirvi che dalla settimana prossima si rinizia col boom, in che senso? E stavolta davvero lo farò senza mancare nemmeno un giorno, incrociamo le dita, un video In che senso ragazzi? Voglio impegnarmi a caricare tutti i giorni i video Infatti vi carico questo video boom autoesplosivo, autodistruttivo proprio di domenica perchè da lunedì si rinizia a boom Infatti ragazzi nel momento in cui saprò già che il giorno dopo non riuscirò a riccare, pre-registrerò i video come giusto che sia Quindi ragazzi, io spero che il video oggi vi sia piaciuto, è durato ben poco, però dovevo darvi questa notizia Poi si autodistruggerà come già ho detto, magari questa sera verso le mezzanotte Intanto sta pagando il microfono Verso mezzanotte, le 11, roba così, in modo che la maggior parte sul canale lo veda Comunque ragazzi, credo che la settimana prossima si inizierà con un video di SkyGrid, Opilaki Pryson, Minecraft Tutto Obiettivi eccetera eccetera Vi invito a passare sulla pagina Facebook, avere tanti novità e aggiornamenti Stessa cosa sulla pagina Instagram Detto questo ragazzi, vi invito a lasciare like, commentare il video, condividerlo anche se si autodistruggerà Cosa ha detto 100 volte Ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi